Sono ore caotiche invece, siamo alla Serie C in casa del Teramo. Dopo il deludente pareggio per 0-0 nella partita contro il Fano, risultato che suona come una condanna ai play-out per il Diavolo, il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, ha silurato l'allenatore Ottavio Palladini. La squadra dovrebbe essere affidata a Giovanni Zichella, che nella prima parte della stagione era stato il vice di Antonino Asta. Zichella nel pomeriggio incontrerà i dirigenti del Teramo per la modifica del contratto, che deve passare da vice a primo allenatore, e la fissazione di un eventuale premio salvezza, che si potrebbe sostanziare anche nel prolungamento del contratto per la prossima stagione, visto che l'accordo scade al 30 giugno. Ieri a caldo, nel tardo pomeriggio, il presidente Campitelli aveva optato per la soluzione interna legata al nome di Rinaldo Cifaldi, il quale però poi ha declinato l'invito a sedersi sulla panchina. In serata la società aveva poi contattato l'allenatore che ha guidato la squadra fino a gennaio e che è ancora sotto contratto, cioè Antonino Asta, ma anche egli ha rifiutato una decisione che comporterà comunque la risoluzione del contratto con lo stesso Asta. Il vice Zichella ha dato invece la sua disponibilità a meno di sorprese dell'ultima ora. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio o al massimo in serata.